Tutto pronto, il 16 dicembre i bambini tra i 5 e gli 11 anni potranno vaccinarsi. Le prenotazioni nella mattinata di martedì hanno già raggiunto 1.689 su 10.113 posti disponibili. Inizieranno gli ospedali, i colleghi di ospedalieri per la vaccinazione perché in questo momento le prenotazioni sono ancora anche molto basse. Poi saremo organizzati come pediatri di famiglia in turni, linee pediatriche dedicate negli hub che verranno messe a disposizione ovviamente del pubblico. Le prime vaccinazioni saranno effettuate agli ospedali Caffoncello di Treviso, Conegliano, Castelfranco e Oderzo. Ci saranno poi le linee dedicate e predisposte nei Vax Point attivati in provincia di Treviso con orari concentrati nelle ore pomeridiane. Negli hub vaccinali, se volete, il giorno 26 dovrebbe aprire il San Vendemiano, ci saremo io e il collega Parisi, il direttore, vestiti a barbo Natale, che faremo le prime vaccinazioni a Conegliano, come sono corsie preferenziali in cui ci saranno solo bambini, in cui ci sarà solo il pediatra che vaccina. I bambini fragili verranno invece vaccinati a casa dai loro pediatri. È importante vaccinare i bambini, spiega Battaglini segretari della FIM Treviso. Prima di tutto per salvaguardare il bambino, perché anche il bambino si ammala. Abbiamo visto che anche il bambino può andare in terapia intensiva, raramente, ma è uno su diecimila, però il 6 per mille subisce un ricovero. C'è il problema del long covid, che ancora non è ben conosciuto, e il problema anche della sindrome multinfiammatoria, la MISC, che può colpire anche i bambini asintomatici a lungo termine.